Se sai, senza freezer non posso lavorare, no? Eh vabbè, che cazzo me ne frega a me del freezer? Vabbè ti pago la prossima settimana, tranquillo. Dai Angelo, forza dammi i soldi, ho dei super cortisette. Ma dai, non ti voglio incassare qui, no? Vabbè, dai, che problema c'è, no? Non ci conosciamo io e te, no? Grazie. Va bene così, vai. Oh, 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 oh. Ma la prossima settimana, che problema c'è, no? Non c'è problema, no? Vabbè, no signor. Oh, 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 oh. Ma la prossima settimana, no? Ti ma? No, ma non c'è problema, Angelo, non c'è problema, davvero. Ah, 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 ah. Mi dai un colpo, bravo, bravo Angelo. E ricomponete la cazzo e le cose. Per tenere il tempo, forzo tutto, guarda. Bravo, bravo, madre, quanto t'ho messo. Andiamo, forza! Andiamo! Tranquillo a posto. Khalid, torniamo al lavoro. Andiamo! Questi spicci di queste cazze, ci vettavano. Angelo! La prossima settimana! Mi devi far incazzare, lo sai, sì? Forza! La prossima settimana!